Bene, allora ringraziamo Tonino per questo suo appuntamento settimanale. Gli appuntamenti di questo fine settimana, intanto a quanto pare il tempo è davvero bello, quindi tutta quella preoccupazione che ci doveva essere non c'è. Magari al nord è accaduto qualcosa, ma qua da noi in verità no. Anzi addirittura, a Ragusa la temperatura ha superato i 30 gradi, chiaramente a mezzogiorno, a luna, quindi vuol dire che siamo davvero in un momento di bel tempo, un meraviglioso ottobre. Una volta c'era un film che si chiamava Un Magnifico Novembre, noi avremmo dovuto fare Un Magnifico Ottobre, perché è stato questo ottobre così bello, con la possibilità di andare a mare. Vabbè, allora gli appuntamenti per domani e dopo domani, domani e dopo domani, è previsto, sono questi appuntamenti con gli stati generali dell'economia. È un appuntamento voluto fortemente dall'assessore Giorgio Masseri, e io ribadisco l'invito che è stato fatto l'altro ieri qua da lui per andare a seguire questo appuntamento. Come vedete sono due giorni intensi di appuntamenti nei quali si affrontano. Il secondo giorno direi più dal punto di vista locale, perché ci sono tutti i rappresentanti dei sindacati e cose del genere, ma il primo giorno, quindi domani, venerdì mattina, fino alle 18.30, tutto il giorno, ci sono degli interventi che sono, come posso dire, come ha detto Giorgio Masseri, sono il puzzle, infatti la grafica fa proprio questo, il puzzle che si potrebbe costruire attraverso le idee che vengono proposte da esperti di certi settori, che potrebbero dire a noi, guardate, che facendo così noi abbiamo visto che in altri posti le cose vanno in un certo modo. Allora, il fatto che un assessorato come quello dello sviluppo economico, che secondo me è il più importante in una città, perché quando si ammazzano per avere, cosa vogliono? Ah, vogliamo turismo e spettacolo, perché quelli sono gli assessorati degli applausi, io l'ho sempre chiamati così, o ancora meglio, dei sollazzi, dei sollazzi, là ci sono molti soldi, perché lo spettacolo costa 50 mila, perché sali sul palco, perché ti fanno gli applausi, e questi sono gli assessorati dello spettacolo, ma non lasciano nulla, sono assessorati dove si spendono i soldi, confondendo la promozione turistica con lo spettacolo, che è un errore forte, e non lasciano nulla, spendono i soldi e non lasciano nulla. Invece, quando si parla di sviluppo economico, e si fa un progetto nel quale si possa mettere alcuni tasselli, dal punto di vista, voglio dire, della città, come si espande, l'economia, tutte queste cose messe insieme potranno poi dare un quadro completo. Noi, come Terribilea, registreremo tutti gli interventi e vedremo poi di fare delle giornate nelle quali si possono poi mandare in onda questi interventi. Quindi domani mattina, venerdì mattina, tutta la giornata, e poi sabato mattina alla Camera di Commercio. L'altro appuntamento, invece, è fissato per sabato sera, il cammino dell'arte, lo vedete. Allora, noi avevamo registrato nella conferenza stampa di qualche giorno fa un'intervista con un imprenditore, un albergatore, diciamo, di Ibla, che collabora alla riuscita di questa manifestazione. Allora, sentiamo parlare lui e poi andremo a chiudere questo spazio del nostro giornale. Grazie.